Maggio. Ogni giorno un nuovo vantaggio. L'azienda Maggio è specializzata nella vendita di piccoli e grandi elettrodomestici da incasso o libera installazione. È un punto di riferimento per la città di Palermo e provincia sia per la riparazione di elettrodomestici che per il vasto assortimento di ricambi per piccoli e grandi elettrodomestici e impianti industriali. L'azienda gode anche di un vasto assortimento di caldaie, ferroli e condizionatori Indesit che, grazie a tecnici formati dalla casa madre, garantiscono il perfetto funzionamento per completare i servizi offerti alla clientela. L'azienda installa anche impianti d'allarme. L'azienda installa anche impianti d'allarme.